A proposito di Inter, di Tifo, usiamo la grande metafora del calcio anche per capire quello che accade nel nostro mondo politico. Tu di questa inchiesta in corso in Liguria non è la priva perché altri governatori, penso a Formigoni in Lombardia, penso al Veneto con Galan, forse Galan domani sarà con noi, è stato a lungo governatore della regione Veneto. Le regioni sono diventate degli importanti centri di potere ormai, che idea ti sei fatto Beppe? Purtroppo il sistema regionale sta mostrando crepe da tutte le parti, pensa soltanto alla differenza della sanità in alcune regioni e in altre, pensa alla pessima gestione dell'autonomia sul turismo per cui sono costruite cattedrali all'estero per quattro dirigenti, potrei andare avanti fino a otto e mezzo stasera e sulla sette a raccontare queste cose. E poi penso, e so che sto dando un assist a altri tuoi ospiti, che quando è partita a Tangentopoli e poi Mani Pulite, avevo 35 anni, mi ricordo rimasi molto molto colpito, era chiaro che il rapporto fra la politica e gli affari fosse malsano, e a 35 anni dicevo, è un trauma così grosso che cambieremo, impareremo tutti. Montanelli, che aveva un'altra età, mi ha detto, è giusto che tu ti illuda, perché hai 35 anni, ma non cambierà niente. Aveva ragione lui. Noi abbiamo rimosso Tangentopoli e Mani Pulite, adesso non voglio riaprire, l'abbiamo rimosso, la politica ovviamente ci ha messo del suo per aiutarci a rimuoverla. La verità è che il cattivo odore che sale dalla Liguria non è quello del mare, che è un buon odore, è un odore salato e buono, è un odore che mi ricorda ai miei 30 anni e speravo di dimenticare, ma è che io mi illudo, io un pochino l'ho rimosso anch'io, però ho pensato che il problema ci fosse allora e la prova, non solo la Liguria, la Puglia, e secondo me, se andiamo a guardare, scopriremo, e lo dico con orrore, che questa è la regola. C'è una, tu lo stai toccando, ce lo stai raccontando, qui abbiamo parlato una piccola grafica, no, dei governatori in carcere, i casi più clamorosi, alcuni di questi poi però, eh ragazzi bisogna dirlo, poi lo diremo anche con, sentiremo anche Pier Camillo Davigo su questo, perché alcuni di questi casi poi sono finiti nel nulla. Quindi io penso che la stampa deva pubblicare tutto e raccontare. Però ragazzi, Ottaviano del Turco, Ottaviano del Turco è stato governatore dell'Abruzzo, arrestato con le medesime modalità di Toti, Carcerazione preventiva e poi assolto. Totò Cuffaro in carcere dopo la condanna, la vicenda invece è stata condannata con sentenza definitiva, Roberto Formigoni in carcere dopo la condanna, ex Presidente della Regione Lombardia, Giuseppe Scoppelliti, insomma ci sono tutta una serie di, poi c'è Galan, c'è Formigoni, per carità ci sono delle inchieste che poi vanno a gol, vanno a rete, però come ci si deve rapportare secondo te anche nel racconto di tutto quello che sta accadendo? E soprattutto c'è un rapporto secondo te opaco tra politica e imprenditoria? E gruppi di interesse? Non è una questione solo italiana, gli Stati Uniti hanno cercato di organizzarlo a modo loro, non è che ci sono riusciti perché il peso delle lobby sul congresso per esempio è spaventoso, ogni paese ha questo problema, la nostra caratteristica è che fingiamo che non ci sia, la politica, le imprese hanno interessi precisi e bisogna trovare un modo fisiologico di garantire che la politica e l'imprenditoria, il finanziamento ai partiti, si è organizzato in un modo da evitare quello che vediamo, perché se noi rimuoviamo il problema, poi succede di tutto, anche arricchimenti personali, perché di questo, anche questo è passato un po' in cavalleria, è successo anche questo qua in Italia, e aggiungo un aspetto antropologico, perché è bene che in certe posizioni di potere non si rimanga a tempo indeterminato, io quando sento parlare di tre mandati per i presidenti di Regione, l'ho detto più volte, l'ho scritto sul Corriere, io inorridisco, perché poi diventa troppo facile fare certe cose, quindi guai il terzo mandato, se ti abitui a vivere con persone che girano sui yacht, hanno le macchine di lusso, tre autisti, poi pensi che tutta quella roba lì, in qualche modo ti sia dovuta, e poi cominciano i guai, questa è antropologia, non è il diritto che l'altro manda a vivere. Tu dici, si creano, interessante questo, si creano quasi delle satrapie, per usare un termine forse, che ricorda, rimanda a altri periodi della storia. Voglio farti vedere...